C'è qualcuno, a parte noi due che siamo stati guariti in questi giorni, che ha ricevuto qualche guarigione negli ultimi tempi? Quindi c'è un Dio all'opera, sorella, Dio ti benedica, ci vuoi raccontare? Come? Vieni, vieni, vieni. Chi la vuole aiutare? Dinuzzo? Dino. Dino, Dino ti aiuta, Santo Dino. Solo che qua noi non preghiamo i Santi. C'è un solo intermediario tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Bella, Santa. Io non so dire tante parole. Non ti preoccupare, dal cuore, dal cuore. Le dico come mi esprimono. Io ho un problema che è all'occhio, che si chiama, mi pare, glaucoma. L'ultimo esame che avevo fatto era quasi tutto nero. E mi ha detto, dice, ogni sei mesi lo devi rifare anche prima. Poi io mi sono dimenticata di questo problema. Sono andata e l'ho fatto il 25 settembre. Sono andata là e il dottore ha detto, ma è bello bianco. Eh sì, ho detto, io vedo meglio. Grazie a Dio. E' un miracolo. Gesù ha risposto. Gloria a Gesù Cristo. Invochiamolo. C'è? Hai qualche problema? Invoca il Signore. Pregalo. Hai un problema che è difficile. Dice, qua è impossibile. Prega il Signore Gesù Cristo. Presentelo a Lui questa sera. Noi possiamo presentare a Lui i nostri problemi. Questa sera vogliamo presentare ora, in questo momento, i nostri problemi? Chiudiamo i nostri occhi. Chi ha un problema, alzi la sua mano. E noi preghiamo tutti insieme per i problemi di ognuno. Fisici, spirituali, animici. Signore, ti vogliamo presentare, ognuno di noi, Padre, che è qua presente e che ti sta chiedendo il tuo intervento. Interveni tu, Padre. Metti pace, gioia e giustizia e guarisci, libera, sana, nel nome di Gesù Cristo. Tu ce l'hai promesso e ci hai detto, chiedete e vi sarà dato. Nel nome di Gesù Cristo. E' scritto così. Siccome è Lui che ce l'ha detto. E' il nostro Signore. Io ho fiducia, io credo. Se tu credi, dice che tu vedrai. Vedi? Gli occhi della fede. Non sono poi una fantasia, diventa una fantasia, una corrigione. Diventa un fatto pratico, vero. La sorella aveva un glaucoma. E' ritornato, sparito. Grazie a Dio. Lode Gesù Cristo. Alleluia. C'era qualcun altro che poi mi diceva, la storia ma non mi fai per... C'era qualcuno che voleva testimoniare? Penuzzo. Vuoi testimoniare? Una corrigione di... Vieni. Patrizia, vieni pure a tu. Dai. Una predica interattiva. Io anche io voglio ringraziare il Signore perché da quando veramente il Signore Gesù Cristo mi ha salvato, sono quasi 22 anni, posso dire che ogni volta che ho avuto un problema e ho fatto pregare, il Signore mi ha sempre liberato. Ora, domenica scorsa io di notte sono stata malissimo, mal di testa, mal di gola, le gambe, mi faceva male tutto, la schiena tutto. Prima del culto, domenica pomeriggio, ho chiamato il pastore e ha pregato. Io ho messo fede in quella preghiera, anche se la notte stavo male, avevo la febbre. Poi tra l'altro, anche se ho 37 e mezzo, io sto malissimo. In bagno mi doveva accompagnare Enzo perché mi girava la testa. Medicina io non ne posso prendere, mi è arrivata la febbre più di 38, però io prima prendevo tante di quelle medicine che mi hanno guastato un po' tutto. Quindi io medicina non ne posso prendere, però credo sempre nella preghiera e quindi il Signore mi ha liberato. Mercoledì mattina gli ho detto a Enzo io voglio andare in chiesa perché sono tre giorni. Veramente, per la grazia di Dio sono cresciuta nella chiesa sia a Gallico che qua tutti i giorni. Per me tre giorni era, non so, trent'anni che non venivo, quindi mi sentivo peggio. Più che la febbre mi sentivo male perché non potevo stare nella chiesa. Mi ha accompagnato Enzo, ho preso due auto e sono venuta qua. La prima cosa sono andata dal pastore, credete mi girava la testa, mi faceva amare la schiena. Però non stavo bene, il pastore ha pregato e io mi sono messa a fare le cose che faccio tutti i giorni. La lavatrice, quello che sono riuscita a fare. Quando sono andata a casa già stavo meglio. Quindi la notte sono stata meglio, l'indomani mi girava ancora la testa. Però l'ho stesso preso gli auto, sono venuto in chiesa e ho fatto pregare. E voglio ringraziare il Signore veramente come fedele e come misericordioso con noi. Lo voglio ringraziare. Amen. Amen. Signore, grazie. Signore, grazie. Alleluia, Spirito Santo. Gesù è la nostra parte. Eleggi il consiglio del pastore. Come parte tua il Signore. E quando sei nel problema, pregalo, invocalo, chiedegli. Ha detto il nostro Signore Gesù, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. A che picchia sarà aperto. Cioè, poi ci spiega e dice, insisti. Insistiamo. Preghiamo. Non ci arrendiamo. Patrizio. Buongiorno a tutti. Io voglio ringraziare il Signore perché nella mia vita mi ha fatto tante guarigioni e tante liberazioni. L'ultima liberazione l'ho avuta sabato scorso. Sia la mattina a casa, ne ho parlato pure con Carmelo, mi era alzata con dei pensieri di malattia che a me dovevano venire, pensieri brutti che mi hanno trattato tutta la mattinata e tutta la giornata. Il pomeriggio sono venuto in chiesa, sono andata dal pastore, abbiamo pregato, c'era pure Francesca, l'anziano, abbiamo pregato e ringrazio a Dio. Poi mi sono messo a sabire in pizzeria e la mattina dopo non avevo più questi pensieri. Voglio ringraziare il Signore perché sono stata liberata. Amen. Amen. Patrizio. I pensieri, la lotta spirituale, il piano della lotta dello spirito nella mente.